E' l'unico assessore regionale in Italia con delega al cicloturismo, Dino Pepe, che di questa opportunità intende fare buon uso. Ha le idee chiare in proposito e ha tracciato un quadro preciso degli interventi che la Regione vuole portare avanti. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente D'Alfonso che mi ha affidato questa delega particolare, che è la delega al cicloturismo, sono l'unico assessore della nostra nazione che ha questa delega specifica. E grazie a questa responsabilità abbiamo costituito un gruppo di lavoro in Regione guidato da un nostro dirigente per coordinare e definire meglio le strategie del cicloturismo nella nostra Regione. Abbiamo definito il back to cost, 35 milioni di euro per 17 comuni da Martinsicuro e San Salvo e tre amministrazioni provinciali. Ovviamente in provincia di Chieti si realizzerà il tratto più suggestivo, più bello della nostra pista lungo la Dursale che è quello della costa dei Trabocchi, 17 milioni di euro. Grazie all'impegno della provincia è stata definita la graduatoria e quindi nei prossimi mesi inizieranno i lavori di questa pista che sicuramente sarà tra le più belle e suggestive non solo del nostro Abruzzo ma io penso della nostra nazione. E poi le progettualità successive. Nel Masterplan abbiamo inserito 60 milioni di euro per migliorare ulteriormente la slow mobility, la mobilità alternativa nella nostra Regione e per ultimo qualche giorno fa abbiamo deliberato un progetto di bike sharing particolare con la realizzazione di oltre 200 ciclostazioni all'interno della nostra Regione. Abbiamo realizzato e sottoscritto un protocollo di interesse con le Università abruzzesi per dare un taglio accademico, scientifico, per realizzare le linee guide per la realizzazione e la gestione delle nostre piste ciclabili perché dopo la realizzazione delle infrastrutture le piste ciclabili devono vivere, devono essere animate e gestite. Anche qui Chieti sta lavorando molto bene grazie all'impegno anche della Camera di Commercio per la realizzazione di un progetto di gestione intelligente, capace, governato di tutto il territorio coinvolgendo una serie di portatori di interesse a cominciare dai comuni ma anche dalle associazioni, dai gruppi di azione costiere, dai gruppi di azione locale, una serie di operatori che possono dare un contributo importante all'economia complessiva della nostra Regione. Quando i lavori saranno ultimati della gestione dunque dovrebbe occuparsi la Camera di Commercio di Chieti. Il Presidente Roberto Di Vincenzo ha ribadito il concreto interesse nei confronti della Via Verde dei Trabocchi e le azioni sviluppate in questi mesi. Noi ci stiamo muovendo oramai da un anno a favore della valorizzazione di questa pista, non in termini astratti ma lavorando sulla costruzione delle serie iniziative. Ci siamo dati un tempo per le attività perché è chiaro che è indispensabile sapere quando più o meno si può incominciare a circolare sulla pista per poter fare dei programmi. Nel frattempo abbiamo sviluppato tante azioni. La più importante penso sia quella di aver costituito un gal della costa dei Trabocchi con tutti i comuni che vanno da Francavilla a San Salvo e di aver deciso assieme a tutto il sistema provinciale che il brand guida della provincia di Chieti è Costa dei Trabocchi. Quindi aver portato la consapevolezza, aver trovato la maturità del territorio attorno alla consapevolezza che questo è l'elemento di attrattività internazionale che il nostro territorio può avere. Quindi su questo ci stiamo muovendo con tante altre iniziative. Noi già a breve avremo una conferenza stampa per presentare un corso di formazione per operatori del cicloturismo che realizzeremo. Cioè stiamo costruendo quello che è indispensabile in questa fase è costruire il prodotto perché la pista è un pezzo di asfalto. Poi ci vuole il prodotto da vendere ed è essenziale che in questo anno, almeno un anno che manca all'inaugurazione della pista ciclabile, si operi per la costruzione del prodotto e su questo noi ci stiamo muovendo con grande intensità.